Siamo comunque felicissimi di avere di nuovo con noi il professor Grillo che ha appena pubblicato questo interessante saggio su un personaggio che aveva avviso ognuno di essere raccontato perché se ne sapeva poco, anche se tutti lo conoscono, grazie soprattutto a Dante, meglio era, più oltre era e quindi tutti sappiamo che si tratta di un affetto di sbagliato Grazie Maurizio e grazie a tutti voi che vi sottoponete anche un po' alle prove tra Green Pass e mascherine richieste ma purtroppo ancora giustamente io credo per effettuare questi eventi e niente, come ha giustamente ricordato Maurizio credo non sia la prima volta che ci vediamo però per me è un po' la prima volta perché è la prima volta che mi sono cimentato con questo tipo di opera storico soprattutto particolare che è l'opiografia e quindi ho avuto modo insomma di cimentarmi in qualcosa di un po' per me di che così volevo mettere anche voi a parte di cosa può voler dire fare un lavoro di questo genere e che cosa se ne può trarre il personaggio che ho studiato è Manfredi di Stevia, un personaggio abbastanza noto del XIII secolo e di cui credo a tutti quelli che l'hanno sentito nominare appunto il primo collegamento che fanno è come ha già ricordato Maurizio quello con Dante ma Dante incontra Manfredi nell'antipurgatorio tra la spiaggia che precede la montagna del Purgatorio vera e propria e lo ritrae con un verso notissimo e citantissimo bello e rebiotto e gentile aspetto torneremo su questo ritratto dantesco questo personaggio quello che vedete lì a sinistra è in effetti uno dei ritratti effettuati dal Vero una miniatura commissionata probabilmente da Manfredi e da suo zio Federico Lancia quindi effettivamente è una stanza del Chiero il ritratto che fa Dante ma appunto ci torneremo questo personaggio chi magari ha un modo fra voi di svegliare il libro verrà qui, insisto molto sulla sfaccettatura, sui molti lati, sul chiaro scuro perché è una figura complessa e qui volevo infatti rapidamente presentarvi tre aspetti di questo personaggio cioè il personaggio storico vero e proprio il mito che è stato costruito su questo personaggio e che in fondo ha finito per soffocare il personaggio e poi invece del personaggio la persona un tentativo che ho fatto di capire chi era davvero Manfredi quindi il personaggio Manfredi muore giovane ha poco più di insomma 34 anni e è reggerotto quindi una parabola brevissima quella di Manfredi ma estremamente densa e quindi adesso non posso fermarmi in tutte le sfaccettature della vita di Manfredi perché vorrebbe dire intrattenerci magari più piacevolmente ma per un paio d'ore cosa che vorrei evitare e non solo questa vita intensa ma avverete dei prati romanzeschi quindi Manfredi è un personaggio innanzitutto affascinante e infatti ha affascinato chi è prima di tutto un po' perché così partiamo dall'inizio ma un po' perché questo elemento poi sarà fondamentale anche nella sua maniera di raccontarsi Manfredi è figlio di Federico II Federico II imperatore questa titanica figura che domina tutta la prima metà del XIII secolo per la sua per la sua per la sua per il suo potere per la sua statura intellettuale anche per la sua mancanza di scrupoli che un aspetto diciamo del titanismo dell' esagerazione che pervade tutta la vita di Federico II è la sterminata quantità di figli e di figlie che ha avuto una certa quantità dalle diverse mogli che ha avuto una certa quantità maggiore dalle moltissime amanti, di cui solo alcune conosciamo per nome, ma sappiamo insomma che aveva questa fama di sciupa femmina, per dirla in termini. Fra queste numerose amanti se ne distingue una bianca lancia, una nobile triemontese, che fu per così dire dalla moglie Morganarca, la compagna fissa di Federico II, fissa nel senso che tornava da lei mentre nel frattempo alternava altre amanti e un paio di mogli. Quindi, Manfredi si trova in una situazione ambigua, ossia è un figlio illegittimo, un bastardo è la terminologia dell'epoca, quindi non è pienamente parte della famiglia paterna, però non è neanche un incidente di percorso, per così dire, è figlio di una nobile donna e comunque di una nobile donna che con l'imperatore ha un rapporto fisso e la cui famiglia, Ilancia, è una delle più importanti dell'autoraggio imperiale, Ilancia ha una serie di incarti di governo importanti nell'abito dell'amministrazione di Federico. Quindi, è un illegittimo, ma cresce alla corte del padre e anzi è forse di tutti i figli di Federico, quello più vicino al padre. È con lui sicuramente, durante gli ultimi anni delle guerre nell'Italia del Nord, ed è l'unico dei figli di Federico a stare a fianco quando, nel dicembre del luglio 1850, muore. Poco prima, Federico aveva accettato di sposare Bianca Lancia. C'è un racconto molto commovente, molto romantico di un colonista inglese, che però non sappiamo quanto sia attendibile, no? Di Bianca Lancia, che malata, chiede a Federico di sposarla per salvare la sua anima, sostanzialmente, non farla morire, è peccato mortale. E Federico, che nobilmente acconsente, un gesto nobile che parte va ridimensionato, considerando che Federico in quel momento era stato scomunicato pubblicamente ed era una specie di varia dell'aristratrazia europea, in cui aveva tentato di sposare un paio di donne, che era a Castoredo qualche anno prima, aveva tentato un paio di matrimoni più, diciamo, diplomaticamente significativi, ma che erano stati rifiutati, e in più stava cercando di far sposare Manfredi, alla figlia dei cuoti di Savoia, ma anche lì i cuoti di Savoia poneva resistenza, probabilmente per il fatto che Manfredi non era legittimo. Quindi queste nozze sono un'operazione politica, portano effettivamente al patrimonio fra Beatrice di Savoia e Manfredi e portano alla legittimazione di Manfredi. Ma quando Manfredi muore, Federico fa testamento, dispone la linea di eredità al trono e vediamo una cosa curiosa, cioè che Manfredi, il secondo come età fra i figli legittimi di Federico, Vivi, finisce terzo, cioè prima c'è Corrado IV, il figlio legittimo che aveva avuto alcuni anni prima di Manfredi, poi l'ultimo genito dei legittimi, Enrico Carlotto, e poi che aveva l'epoca 8-9 anni, e poi un Manfredi, ventenne, ma evidentemente, come dire, nato veramente come figlio di Federico al momento della legittimazione, non al momento della sua nata di nascita. Si crea così, dopo la morte di Federico II, una delle situazioni più drammatiche che si possano immaginare in una grande famiglia, figurarsi in una famiglia di regnanti, cioè tre figli di tre madri diverse, tutte e tre con legittime aspirazioni al trono. Non può finire male e finisce male. Non sto a fargli tutta la storia, mi sono Corrado IV, scende in Italia Meridionale, tenta di, per sostanzialmente, marginare con fretta e di fare carcerare i suoi parenti, fa probabilmente uccidere Enrico Carlotto che gli dava noia, dopodiché muore anche lui, forse di malattia, ma tutte le maledingue d'Europa dell'epoca ovviamente puntano il dito su Manfredi e su una pozione a base di diamante che gli avrebbe somministrato per devastargli gli intestini. A questo punto che cosa succede? Con la morte di Corrado IV, però, l'erede legittimo al trono del regno di Sicilia, chi è? Tecnicamente non è Manfredi, attenzione, perché nel frattempo ancora dopo l'altro è un figlio, Corradino. Quindi, per i partigiani degli Svegli, il legittimo re di Sicilia è Corradino e il sottore, che è il conte, è un marchese tedesco scelto come sottore. Per i seguaci del Papa, il re legittimo è Papa, perché? Perché il Papa fin dal XII secolo aveva dei diritti sul regno di Sicilia, perché era stato lui a incoronare i normani, i re di Sicilia, e siccome Federico II era stato scomunicato e quindi aveva perso il diritto sul regno, non c'era nessun regno di ereditare nella prospettiva pontificia. Quindi, che cosa succede? Che scoppia sostanzialmente una guerra civile tra i partigiani del Papa, questo marchese del tollo di Holburg a nome di Corradino e Manfredi, attenzione a nome di Corradino pure lui, perché non vuole scoprirsi, ne seguono quattro anni di guerra civile dai quali c'è il reggitore Manfredi. E dopo quattro anni Manfredi decide, per un lato momento buono, per detonalizzare Corradino, che i suoi parenti saggiamente tengono in Germania lontano da tutte queste leghe, annuncia che Corradino ha morto, fa uccidere i parenti di Corradino che vengono di corsa del sud a protestare che non hanno morto affatto, e si fa in coronare re di Sicilia. Inizia qui il momento forse più splendido della parabola di Manfredi, in una serie di anni nei quali non soltanto rinnova gli splendori della corte federiciane, Manfredi ha un cenate, era un uomo piacevolissimo, su questo concordano tutte le testimonianze, era simpatico, alla mano, poi non aveva stupoli e farti strangolare, ma fino a quel momento era simpatico, no? Un personaggio sapeva cantare, alla sua corte faceva delle feste belle ma politicamente sensate, erano operazioni per conquistarsi il favore pubblico. è un uomo di cultura, promuove per esempio una serie di traduzioni di opere importanti, di filosofia, di astrologia, di astronomia, che all'epoca era una scienza dall'arabo, fa riaprire l'università di Napoli che aveva chiuso nei torbidi della guerra civile, che sono un personaggio che si afferma, si afferma anche dal punto di vista politico, con le due grandi vittorie dei suoi seguaci, dei suoi partigiani, nell'Italia centrosettentrionale, cioè quella di Cassano d'Adda, in cui i ghibellini fautori di Manfredi, schierati attorno a un nobile che si chiama Roberto Pellavicino, battono i ghibellini fautori di Corradino, schierati attorno a un nobile famigerato il serino da Romano, e poi la notissima battaglia di Montaperti, nella quale i guai su Fiorentini sono sconfitti dei ghibellini serisi. L'ambice del suo potere però corrisponde anche all'inizio della crisi del suo potere, su due fronti, il primo è la reazione papale, i papi, soprattutto quando muore Pato Adriano IV, che era stato incapace in qualche maniera sia di fare la pace con Manfredi, sia di fargli la guerra con efficacia, i papi successivi, Pato IV e Clemente IV, atto da una politica rigorosamente anti-manfrediana, riesce ad screditarlo presso quasi tutte le principali corti d'Europa, tranne la corte degli Aragona, poi ci sarà il matrimonio tra il figlio di Manfredi e l'erede al trono d'Aragona, Pietro III, ma soprattutto convince il fratello minore della rete di Francia, Carlo D'Aggiò, a scendere in Italia e fargli la guerra. Nel frattempo Manfredi in realtà da un lato deve affrontare il fatto che il regno non è affatto pacificato, quindi la sua eliminazione dei grandi nemici politici è un'opera di normalizzazione che passa attraverso sostanzialmente l'attribuzione di tutte le carte principali di governo soccariti, è un grosso clan familiare quello che governa l'impero di Sicilia, parenti che ne approfittano in maniera sfacciata per opprimere il tassario illegalmente, sottrarre terre a privati o a enti ecclesiastici, abbiamo dei lunghissimi elenchi di risarcimenti che poi dopo la sconfitta il regno dovete pagare a questi enti maltrattati, queste persone maltrattate, quindi la debolezza interna al regno che diventa una debolezza di Manfredi, ma la cosa che colpisce è che Manfredi non si muove mai. I re all'epoca c'eravano tantissimo perché dovevano far sentire la loro presenza in tutto regno e poi viaggiano anche fuori, quindi Federico II, il padre e il modello teoricamente di Manfredi, nel regno c'è stato pochissimo, una volta giunti i trent'anni erano sempre o in Italia del Nord a fare guerra o in Germania a controllare che non succedesse in Germania e la crociata e facciamo un salto in Provenza, la prendiamo la Provenza e pensiamo anche a conterranei, non so Luigi IX di Francia, sempre in giro per tutto il regno, la crociata. Manfredi, anche grazie al fatto che dispone di una parte di governo abbastanza efficiente, non si muove mai, non ha mai lasciato i bottigli del regno e anche all'interno del regno fa due tagline velocissime in Sicilia, di cui una per farsi incoronare, due passaggi, anche questi velocissimi in Campania e per il resto gira fra tre o quattro località della Capitanata, posti bellissimi dove ha questi castelli anche lussuosi con le terme, la sala da musica, insomma tutta una serie di elementi che all'epoca erano decisamente rari e gira sostanzialmente fra Melfi, Foggia, Pestici, poco altri insomma. E in questa maniera quando Carlo D'Aggià effettivamente arriva con l'esercito si trova totalmente impreparato. Tutte le città tirreniche, Napoli, Amalfi, Greca, Capo, Alvin, Sorbono, contro e in questa situazione è costretto a dare battaglia, a giocarsi tutto per tutto contro Carlo D'Aggià nella famosa giornata di Benevento il 26 febbraio 1266 che termina con la sua sconfitta e la sua morte. ecco, questo è il personaggio, un personaggio indubbiamente importante, importante per quello che è venuto a rappresentare in seguito ma anche per il suo ruolo appunto in questo pur breve torno di anni, importante per le sue iniziative culturali, importante per la sua figura ma a me soprattutto quando ho cominciato a scrivere questa biografia quello che affascinava era che sotto Manfredi per la prima volta si crea uno spazio politico sostanzialmente italiano cioè Manfredi agisce in Sicilia come era in Sicilia, nel nord non si capisce bene anche tutto però si comporta un po' come fosse il re d'Italia. lo aveva fatto con il suo padre, ma il suo padre era il quadro del Peo, per cui il quadro in cui agiva era Germania, Italia sud-entrionale, Italia benedianale, Provenza, Terra Santa, un quadro molto più vasto. Invece per la prima volta che poi piaggiò e riliterranno questo quadro d'azione, non che Manfredi voglia l'unità d'Italia, perché non lo vuole, non bisogna proiettare su Manfredi, cose di sei secoli in esteriori, però per la prima volta appunto l'Italia appare un'entità diciamo percorsa da una serie di idee politiche e di azioni politiche che vanno dall'orda sud. Quindi, questo è il personaggio. Questo personaggio, quando vi dicevo che il tema del bianco e nero, delle spaccettature è molto forte, già in vita è stato ritratto in due maniere assolutamente opposte. Cioè, da un lato, la propaganda pontificia lo disegna come sostanzialmente il serpente nato dal serpente, questa è una delle immagini con cui lo ritrae, no? Il figlio di un scomunicato eresiata che prosegue nelle gesta del padre, attribuendogli tutta una serie di colpe, alcune quanto meno dubbie, l'omicidio del padre, l'omicidio del fratello, altre reali, l'omicidio dei suoi impositori politici, l'omicidio dei messi mandati da Corradino. E aggiungendoci il carico di un errore probabilmente strategico che ha fatto Manfredi, gravissimo, cioè, forse voi saprete che uno dei punti di forza di Federico II erano i soldati Saraceni di Lucera, no? Arami di Sicilia che lui aveva deportato in Puglia e che gli dimostravano una fedeltà assoluta, perché da questa fedeltà assoluta sostanzialmente ripeteva la loro sopravvivenza. Erano autorizzati a essere musulmani, praticare il loro culto, eccetera, a fatto che combattessero per lui senza discutere. Manfredi trova molto utile di ereditare questa fedeltà, ma fa l'errore drammatico di lanciare questi Saraceni in un offensima militare contro il Papa. Papa che può chiamare i principi d'Europa dicendo il sultano di Lucera sta per conquistare la capitale della cristianità e questa ovviamente in tutta Europa ha un'eco fortissima il fatto che soldati musulmani avanzassero su Roma. Quindi il nero. Dall'altro lato, e questo è un aspetto che io trovo modernissimo, non è una categoria storica modernissimo, però diciamocelo, è modernissimo come tratto, Manfredi è il primo promoter di se stesso e ha una politica che, fra meccionatismo e sfacciata propaganda, una politica dell'immagine, direi in termini moderni, che è efficacissima e che si basa da un lato su strumenti tradizionali che aveva ereditato da suo padre, per esempio l'ottima cancelleria del regno che emanava lettere, circolari, manifesti politici, eccetera. Dall'altro su strumenti che suo padre non aveva concepito e che invece Manfredi potenzia come la scrittura della storia, una storia ovviamente volta a esaltare la figura di Manfredi, e poi, per uscire, questi sono tutti strumenti, arrivati però a quel piccolo gruppo di letterati in grado di leggere e capire il latino, lingue in cui erano scritti questi testi. Ricorda ai poeti, alla corte di Manfredi, ma anche in tutta, per esempio, la Francia meridionale, ci sono poeti, trovatori soprattutto, comunque che scrivono in lingua franca, quel francese che in Europa capivano un po' tutti, il francese era l'inglese dell'epoca, se pensate anche Marco Polo scrive il milione in francese in maniera da poterlo esportare, e anche il tedesco dei poeti che celebrano la sua figura, la celebrano per scritto, ma in volgare, quindi eccedendo a un pubblico più ampio, e poi soprattutto la celebrano cantando queste canzoni, di cui poco ci è rimasto perché erano orali, ma sappiamo che venivano cantate e volte a celebrare appunto l'immagine di Manfredi. E poi affresti, lapidi, monete, insomma tutta una costruzione, invece in positivo dell'immagine di Manfredi che era giusto, il re saggio, il re cavalleresco, quindi prode, cortese, generoso, e anche il re colto. Questo solo mecenatismo era in gran parte anche questa un'operazione politica, non era solo amore per la cultura, ma era anche un'operazione politica, per cui per esempio abbiamo una bella lettera in cui dona all'Università di Parigi una serie di questi testi che aveva fatto appena tradurre, ma li dona con un manifesto che dice siccome soltanto i re saggi possono governare bene, ecco che io allora mi incollo alla filosofia, e io studio solo un re saggio, quindi governano bene, affinché anche gli altri re europei possano governare bene, quanto è? Vi manca un po' di libri. Quindi noi abbiamo due Manfredi, uno come dire angelicato e uno demoniaco. E queste due immagini di Manfredi sono, non sono semplicemente, come dire, mischiavoli in maniera da ottenere un Manfredi grido, bisogna lavorare sulle fonti, diciamo, non propagandistiche o andare a leggere un po' in trasparenza quello che c'è oltre la propaganda e cercare appunto di cogliere le sfaccettature di un Manfredi, di un Manfredi per esempio che a seconda delle circostanze politiche si proponeva come fautore della Chiesa aperto al dialogo col Papa, quando poi i papi abbastanza immancabilmente rifiutavano questi approcci, allora diventavano un fautore dell'impero e inferreo combattente anticlericale, ma non era una posizione ideologicamente erradicata, erano tattiche che lui seguiva per perseguire questa brava di potere che effettivamente lo pervade, si vede benissimo, per tutta la vita a lui. Queste due immagini poi hanno portato alla costruzione del mito di Manfredi, in qualche misura Manfredi è rimasto schiacciato, per questo fino a tempi recenti davvero non erano stati studiati adeguatamente, non dico alla mia biografia ma un libro molto importante che è scritto uno studioso siciliano sul regno di Manfredi, insieme all'epodistisa, che ha aperto la strada della nuova stagione di studi su Manfredi, non era stato studiato proprio perché è schiacciato da queste due titaniche figure con cui si trovano a confrontarsi, per cui da un lato il figlio di Federico II, lui si presentava come figlio di Federico II perché era il suo grande argomento per convincere, non vorrete mica il nipote di Federico II che era il figlio, quindi nei suoi diplomi si intitola re di Sicilia e figlio dell'imperatore, nelle sue lettere dice sempre come diceva il babbo, facciamo così e lo sa, addirittura in alcune monete si mette piccolino ai piedi dell'aquila imperiale, come dire l'aquila di Cova perché è il mio genitore, no? Però il risultato è stato che a posteriore della sua immagine è il risultato totalmente schiacciata su quella del padre, no? Come ne fosse un continuatore non originale e quindi non interessante. Ah, si ha riaperto l'Università di Napoli come il padre, voleva sottomettere i comuni del nord come il padre, invece la figura di Manfredi ha tutta una sua originalità, delle sue scelte politiche completamente nuove. La seconda è Dante, ovviamente, per lui Manfredi rimane schiacciato in questo ritratto del bello, del bello di Gentile Aspetto. In realtà, attenzione, non è neanche questa l'immagine che vuole dare Dante, perché di Dante si legge solo quel verso lì, si ricorda solo quel verso lì, ma Dante ci dice subito, ma l'un dei cingli è un colpo che è un viso, cioè sarebbe stato bello, ma in realtà è spregiato dai colpi ricevuti durante la battaglia di venimento. E non è ovvio che un'anima si porti in purgatorio le cicatrici che aveva quando è morta, quindi non è casuale questa notazione. È Dante, è conscio dell'ambiguità della figura di Manfredi e ai lati positivi che Dante riconosce, vuole sottolineare anche i lati negativi, quindi sì, è bello, ma è spregiato, è spregiato dai colpi della battaglia, ma in realtà è spregiato dal peccato. Lo stesso Manfredi, nel dialogo con Dante, dice, arrivo il furo nei peccati miei, se non fosse stato un peccatore tutto il messaggio dal testo, cioè la misericordia divina si granbraccia, che accoglie chiunque, persino Manfredi, non avrebbe avuto senso. Quindi, e poi, giocando sempre sulla dignità, triplici a dignità, perché Manfredi è bello, è sfigurato da queste ferite, il ciglio e il petto, ma attenzione Manfredi lo mostro con orgoglio, perché sono le ferite litigate da eroe, ferito al petto in fronte, mentre guardava le mie vite, non mentre fuggiva. Quindi, è un gioco bello nel suo continuo insieme di rimani, Dante e Dante, insomma, diciamoci. In questo contesto cosa succede? Che la versione di Dante viene un po' purgata e ne rimane soltanto l'aspetto positivo. Quando, soprattutto, avviene questo procedimento? Nel risorgimento. Quando viene costruita una nuova immagine di Manfredi, c'è un po' nel dimenticatoio, no? Come vi dicevo, non è un personaggio così interessante come il padre. Viene era imparato nell'Ottocento, perché? Perché l'Ottocento, beh, l'Ottocento è intanto un secolo innamorato di Medioevo, no? Quindi tutto quello che era medievale era interessante. E, in particolare, l'Italia risorgimentale ha bisogno di un passato e il Medioevo è l'unico passato un po', se non si vuole andare a Roma, ma Roma è troppo lontana, è l'unico passato un po' interessante dal punto di vista politico-militare che di esoddisfazione, perché se no c'è la Lungaria. Il Rinascimento è bello dal punto di vista culturale, ma è quando francesi e spagnoli e austriaci passeggiavano per l'Italia in piena tranquillità, perché l'immagine è che l'Italia risorgimentale era di se stessa. E quindi Manfredi, a un certo punto, si trova in una situazione, diciamo, fortunatissima per l'immagine di Manfredi, ossia Manfredi, aspirante all'Italia, forzando molto questa sua politica italiana. Opposto al Papa, Papa che si accogge ai francesi. La questione è romana. Il Savoia vuole unificare l'Italia con Garibaldi, potete identificare Manfredi con uno dei due a caso, il Papa si oppone e viene accoggiato da Napoleone III di Francia. Quindi, a Manfredi viene cucita addosso questa immagine dell'anticlercale, del Chibendino, del proto-rei italiano, che è un'immagine falsa, sostanzialmente, l'ha costruita a scopi politici. Con l'affievolirsi, diciamo, della flatta esorgimentale, Manfredi non serve più, torna nel dimenticatoio, anche perché c'è la colpa originaria, cioè Manfredi ha uno sconfitto, comunque perde, e quindi non è caso di puntare troppo sulla sua figura, appunto finché, in anni recenti, finalmente non si è stato in grado di, come dire, ripulire da tutte queste incrostazioni, retorche, politiche, la sua figura e studiarla scientificamente. e questo è quello che ho provato a fare io, appunto, anche approfittando il fatto che una serie di studi molto interessanti su Manfredi negli ultimi anni sono stati fatti. E vi ho detto, appunto, emerge questa figura molto interessante per la dimensione italiana della sua azione, che si sposa con una dimensione mediterranea, con le cui spose, seconde nozze, la figlia di principi di Epiro, ha una politica balcanica, la moglie e la figlia all'infante di Aragona, quindi ha una politica mediterranea tanto intensa, si azzoppa da solo, appunto, con questa politica di concessioni eccessive e carentiche, non pagano, diciamo, la sua fiducia come governatori, o forse non aveva nessuna fiducia e gli andava bene che si comportassero così, questo non lo sappiamo. è interessante per questa modernità, appunto, nella costruzione della propaganda, e ma a un certo punto, quando sono arrivato a questo punto, mi sono reso conto che c'è solo un Manfredi politico in questo libro, perché a quel punto ero caduto nella trappola di tutti i biografi, cioè di farsi incuriosire dalla persona, solo che, appunto, chi è questo ragazzo che vediamo qui, questo ritratto, probabilmente abbastanza fedele, perché abbiamo un altro paio di miniature che raffigurano Manfredi, e i lineamenti sono quelli, no? ma il problema è che sostanzialmente non avevo fonti a disposizione per cercare di passare la dimensione pubblica di Manfredi, per entrare un po' nelle sue dimensioni privati, Manfredi non ha scritto diari, non ha scritto lettere, il suo pugno si affidava sempre ai suoi caccedieri, che forse ha scritto l'introduzione, appunto, a una di queste traduzioni, ma sono l'unica manciata di righe che potrebbe essere davvero uscita direttamente dalla band di Manfredi. Forse ha composto qualche canzone, ma al contrario di quelle scritte dal fratello Enzio, non ci sono arrivate, si è davvero ne ha scritte. Né nessuno dei suoi collaboratori ha scritto qualcosa di simile a quel magnifico giornale di Enzio, un nobile francese che ha tenuto il primo diario moderno e attraverso le pagine di questo diario è possibile vedere tutta la vita del corte di Rai Luigi IX, di San Luigi, con occhi non formali, perché è un testo che mi scriveva più diario, mi scriveva per se stesso. Niente di simile per Manfredi. Quindi, cosa si poteva fare? Io ho provato ad avvicinarmi un po' a Manfredi, cercando di leggere in chiaroscuro questi testi e di vedere che cosa ne potevano trarre. Per esempio, qual è il vero rapporto col padre e con la famiglia? Perché è vero, Manfredi si presenta come figlio di Federico e in tutti i testi ufficiali professa la più grande devozione e la più grande volontà di continuità con le scelte del padre. Ma non in tutti. Quando in realtà il nostro ha degli interlocutori per i quali Federico non è gradito, ecco che improvvisamente Federico svanisce. E Manfredi si presenta come magari il bisnipote di Federico I Barbarossa. Così fa in una lettera ai Romani, uno dei suoi testi più celebre che è manifesto ai Romani. Suo figlio non lo chiama Federico come padre, cosa che facciano tutti i principi, di solito il primo genito di un principe che porta il nome del padre di quel principe, non lo chiama Federico, lo chiama Enrico come nonno. Perché? Perché Federico è un nombrante come nome e quindi avrebbe reso poco spendibile il figlio. E d'altro canto un po' gliene aveva combinato Federico. Il primo matrimonio di Manfredi, quello per cui l'aveva frettolosamente legittimato, Manfredi ha 15 anni e sua moglie quasi 30. E vedo va e ha due figli, uno sarà il futuro Marchese di Saluzzo, Tommaso I, che ha un'attività in età di Manfredi. Quindi possiamo immaginare che questa, come dire, vendita del figlio sul mercato matrimoniale, per il giorno di un dia, è la domanda del cielo. Però non deve essere stato probabilmente inviato chissà quale vita nuziale particolarmente felice. E fra l'altro in questo Manfredi c'è da dire è un personaggio estremamente, per gli standard dell'epoca, morigerato. Nel senso che sappiamo di una sola sua figlia illegittima, mentre a parte i santi come Luigi IX, che soltanto il re all'epoca ne disseminavano, a quintali. Quindi, già possiamo vedere una figura un po' più sfaccettata, invece di questo monolitico figlio e seguace ed erede del padre, un figlio che la vendita paterna la gestisce, forse con un po' di rancore, oltre alla gratitudine, forse un misto dei due sentimenti, che comunque con un po' di cinismo sa quando fa riferimento al padre e quando non fa riferimento al padre. Manfredi muore scomunicato, Dante ce lo presenta salvo, anche se con un bel po' di anni di purgatorio di spiare, fieramente anticlericare quando deve occorsi ai papi, ma in altre occasioni invece fa autore della riconciliazione con la chiesa, c'è una lettera molto bella, forse un po' ipocrita, in cui scrive a suo fratello Corrado IV, quando ancora andavano d'accordo, a cui gli dice che nostro padre avrebbe voluto che tutti riconciliassi con la chiesa, prosegui su questa strada, potrebbe facendo rivoltare Federico II nella tomba, ma cosa possiamo dire? In quelle poche libie, che sono la prefazione a questo fatto, tendo, seudo, rispettetico, scritte da Manfredi, Manfredi dice che la salvezza della sua anima per lui è una preoccupazione e che per questo si rivolgeva alla sapienza degli antichi. Però dall'altro lato una cosa che fa impressione è che Manfredi non è l'unico, credo, sovrano di tutto il Medioevo a non aver mai fondato o meno una cappella, questa soddisfazione. Insomma, di mettere un pochettino di anima in questo Manfredi, che non è soltanto un acuto, un giocatore, un cinico giocatore di scacchi politico, ma una persona tutto tondo, una persona dai lati, dai molti lati scredibili, colosi, eh, non sono perduto, eh, per quella invece, eh, per la sindrome di Stoccolma nella quale cadono molti biografi, che poi si finiscono con l'innamorarsi del soggetto che studiano e di prenderne le parti inopinatamente di te, insomma, alle volte. Eh, questo no. Però, ecco, diciamo che per me è stata una bellissima esperienza, perché proprio mi ha dato occasione di conoscere un po' da vicino una persona, ha vissuto 800 anni fa, che in fondo è una delle massime aspirazioni del povero storico. Grazie. 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 Grazie.